Oggi prepariamo insieme una ricetta della tradizione ligure, lo stoccafisso accomodato. Tritiamo a coltello il prezzemolo con uno spicchio di aglio, senza anima. Adesso soffriggiamolo un minuto in olio extravergine di oliva. Poi, sempre a coltello, tritiamo alcuni filetti di acciughe salate, i pinoli e i capperi. E li mettiamo a soffriggere insieme al prezzemolo, per qualche minuto. Adesso aggiungiamo lo stoccafisso, che avremo precedentemente bollito per 10 minuti, in acqua con una cipolla, una carota e un gambo di sedano. Mescoliamo bene, poi sfumiamo con il vino bianco e lasciamo evaporare l'alcol. Nel frattempo, sbucciamo, laviamo e tagliamo a quadrotti le patate che aggiungeremo nella nostra casseruola. Saliamo e peppiamo. Poi aggiungiamo un po' di passata di pomodoro, mescolando bene. E le olive, rigorosamente taggiasche. Adesso lasciamo cuocere per circa 45 minuti a fuoco lento. Se si asciuga, aggiungere un po' di acqua. Che buono! Buon appetito a tutti! Grazie! 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 Grazie!